Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Questo prodotto lo aspettavo già da un po' di tempo e non vedevo l'ora di provarlo perché ne parlano tutti veramente benissimo. Il brand è Wambo o Wamboo, non so come si legga in verità, ed è penso uno dei proiettori più venduti di questo periodo, Wamboo T2 Max. Andiamo a vederlo perché sono convinto che piacerà sicuramente anche a voi. Wamboo T2 Max, modello di proiettore già uscito da un po' di tempo che però un po' per il prezzo, un po' per le sue caratteristiche, risulta essere un prodotto veramente di buonissima qualità. Andiamo ad aprire la scatola e a vedere cosa ci troviamo dentro, poi mi sposterò e vedremo di fare qualche test accurato in uno spazio un po' più grande di questo laboratorio. La scatola non contiene grosse cose. Troviamo solamente il proiettore e ve lo faccio già vedere qua, guardate che figata incredibile, compattissimo, veramente bello bello da vedere e in più ovviamente il suo alimentatore e se riesco a tirarlo fuori il telecomando. Guardate anche il telecomando che bellino e quanto è elegante. E' più bello del telecomando della tv Samsung che ho sopra, che è veramente bello. Oltre a questo troviamo un piccolo manuale di istruzioni e un sacchettino di adesivi veramente carini che non servono un cazzo però sono divertenti. Andiamo a elencare le caratteristiche principali. Innanzitutto i lumen, sono 450 lumen che non sono tantissimi ma da quello che ho potuto vedere, perché il prodotto l'ho già provato, riescono a proiettare un'immagine nitida anche a una distanza abbastanza alta, tipo a 4 o 5 metri riusciamo ancora a vedere tutto chiaramente, anche solo su una parete di casa. Ma poi vedremo che c'è un gadget che può migliorare ancora la visibilità. Tornando in carreggiata, risoluzione nativa 1080, quindi full hd, non abbiamo un proiettore 4k ma in ogni caso devo dire che la qualità delle immagini è comunque molto molto alta. All'interno troviamo un sistema operativo un po' datato, perché troviamo Android 9, ma tanto diciamo che è un po' nascosto, non ce ne accorgiamo quasi che sia un Android. E nel sistema operativo ci troviamo anche già preinstallati per esempio Netflix, YouTube e tutta una serie di altre applicazioni e poi possiamo andare a installare altre applicazioni per conto nostro. Ho già controllato, c'è Disney, c'è Prime, c'è tutto quello che vogliamo. L'interfaccia non ve ne parlo perché la vedremo dopo a prodotto acceso. Funzioni veramente fichissime, l'autofocus intelligente e in più la correzione del keystone, quindi diciamo quando andiamo a proiettare con il proiettore inclinato che vedremo una proiezione trapezoidale, lui tramite la proiezione di un pattern riuscirà ad andare a capire come è orientato e andare a correggere la forma dello schermo. Veramente una figata. in più controllo automatico della temperatura e soprattutto una cosa che mi ha veramente stupito, la qualità dell'audio. Perché qua dentro, dietro questa griglia, abbiamo due speaker che devo dire restituiscono un audio veramente bomba, soprattutto considerando le dimensioni di questo proiettore. Parlando invece di connettività, nella parte posteriore del proiettore vedete che abbiamo l'ingresso dc ovviamente per l'alimentazione, un ingresso usb nel quale possiamo collegare delle chiavette, l'ingresso hdmi e infine un'uscita per le cuffie nel caso in cui l'audio non ci soddisfacesse. Nella parte frontale guardate abbiamo una lente piuttosto generosa, non abbiamo possibilità di andare a toccarla manualmente per la messa a fuoco, andiamo anche a togliere la pellicola di protezione e nella parte superiore troviamo il pulsante di accensione. Nella parte inferiore filetto da un ottavo per andare a metterci per esempio su un cavallettino. Se vogliamo proprio guardare tutto vedete anche il telecomando con tutta la sua eleganza e tutti i pulsantini che ci servono per andare a fare le varie funzioni del nostro proiettore. Vi dicevo che c'è un gadget per andare ad aumentare la qualità visiva ed è questo. Guardate qua insieme al proiettore mi hanno mandato un telo apposito per proiettori. Ovviamente non si tratta del telo polarizzato fighissimo da un milione di dollari. È un telo piuttosto base che però ci permette di andare a proiettare con una qualità maggiore rispetto per esempio alla parete. Adesso qua non si riesce a percepire la qualità del tessuto ma è un tessuto molto sottile che credo possa funzionare anche bene per la retroproiezione ovvero il proiettore che proietta da dietro sopra al telo. Insieme al proiettore troviamo dei velcri biadesivi per andarlo ad attaccare ma sarebbe mia intenzione provare a realizzare una cornice gigante in legno su cui vado a stendere questo oggetto. Tanto per chiuderla questo telo è ben 100 pollici che è la misura massima che riusciremo a ottenere con questo proiettore e 100 pollici si vedono comunque ancora bene ve lo garantisco. A questo punto abbiamo fatto la panoramica generale del prodotto direi spostiamoci in un posto più ampio come vi dicevo prima e andiamo ad accenderlo e a vedere un po' tutte le sue funzioni. Eccomi qua finalmente con il Wambo installato. Installato per modo di dire perché come vedete è un po' precario. Mensola di fortuna appoggiata su due lampade che sono le mie due abajur. Comunque al dire di questo quello che voglio farvi vedere è come funziona questo Wambo T2 Max perché è veramente una figata pazzesca. Come dicevamo ha un software con base Android che quindi ci dà l'opportunità di installare un sacco di applicazioni. Ovviamente troveremo già un sacco di cose preinstallate come YouTube, come Netflix, come Disney. Abbiamo la possibilità di installare Prime e via dicendo. Ovviamente tutto quello che avevo l'ho già configurato ed è disponibile sopra al proiettore. Proiettore che si collega alla rete di casa viene configurato in modo molto molto semplice. È sufficiente configurarlo con un account Gmail e poi avremo tutte queste funzionalità a disposizione. Ovviamente oltre a tutte le funzioni smart abbiamo anche la possibilità di utilizzarlo banalmente collegato al suo ingresso HDMI. Quindi colleghiamo la console, colleghiamo un lettore, colleghiamo il nostro computer e chi più ne ha più ne metta. Prodotto quindi molto molto versatile. Ci possiamo guardare veramente di tutto. Perché l'ho installato qua in camera? Perché nella parete dietro alla macchina fotografica dove tra un attimo sposterò l'inquadratura ho installato un pannello provvisorio in MDF bianco sul quale vado a proiettare. E siamo a una distanza di circa 3 metri con lo zoom regolato. Sto praticamente proiettando uno schermo intorno ai 90 pollici. Si potrebbe arrivare anche fino a 100 ma il pannello da MDF non mi ci stava in macchina per cui ho dovuto rimpicciolirlo un pochettino. In ogni caso sicuramente molto meglio del 32 pollici che avevo prima. Andiamo a vederlo acceso. Ecco qua il pannello che vi dicevo che tra l'altro ho anche rivestito con quel telo che abbiamo visto prima. Che vi dico cambia abbastanza la situazione perché contrasta leggermente di più l'immagine. Però non è semplicissimo da installare perché prima di tutto bisogna stirarlo e per stirarlo bisogna impegnarsi abbastanza perché essendo che arriva in una scatoletta grossa così le pieghe sono piuttosto consistenti. Però una volta stirato diciamo che il telo risulta essere abbastanza liscio. Io ho utilizzato una temperatura media ovviamente senza il vapore. La parte difficile come forse si vede è lo stenderlo. Stenderlo sopra un'altra superficie perché per quanto noi andiamo a stenderlo rimane sempre comunque qualche piega. In ogni caso meglio che andare a proiettare che so sulla parete colorata oppure sul ripiano di MDF bianco che era comunque lucido per cui una parte di contrasto se ne andava proprio per questa parte di lucidità. La luminosità 450 candele al metro quadro non è altissima ma ci permette comunque anche in una stanza come questa di vedere le immagini abbastanza bene. E vi dico la verità sono già godibili anche con la luce accesa. Ovviamente con la luce spenta si ottiene il meglio. Telecomando che prende un po' in tutte le direzioni quindi molto comodo. È sufficiente premere il pulsante di accensione e lui andrà ad accendersi. Appena finisce di caricare il software la prima cosa che andrà a fare è l'autocalibrazione. Vedete che viene proiettato questo pattern che viene inquadrato da una telecamera che si trova sul proiettore stesso e va a mettere a fuoco e a dare la forma corretta all'immagine del proiettore. Quindi se noi andiamo a proiettare un'immagine su una parete che è leggermente inclinata rispetto all'asse del proiettore e quindi avremo una forma trapezia questa forma viene corretta in automatico ed è sempre perfettamente rettangolare. Ho spento il faretto che usavo per illuminare me tanto a voi quello che interessa effettivamente è vedere quello che proiettiamo e non il mio faccione. Come vedete l'interfaccia è molto molto semplice. Abbiamo un menu sulla sinistra che ci permette di passare dalla home alle impostazioni e via dicendo mentre sulla destra troviamo tutte le applicazioni che sono installate. Vado a far partire per esempio youtube vedete che mi carica direttamente la sua interfaccia. I tempi di caricamento sono abbastanza veloci e vedete che mi trovo con un'interfaccia di youtube e ovviamente riconoscendo i contenuti di qualità vedete che in prima pagina troviamo un video di 67lab. Faccio partire un video per farvi sentire anche la qualità audio che è decisamente impressionante. Abbiamo due piccole casse che non sono potentissime ma che ci garantiscono una qualità audio già piuttosto buona. Ovviamente se vogliamo raggiungere il top conviene montare delle casse che magari siano dallo stesso lato dello schermo proiettato in modo da avere l'audio che effettivamente arriva dalla parte corretta. Sentite qua. Questo pezzo si può passare sopra. Cosa ne dite? A me sembra veramente ottimo. Adesso spengo un attimo anche l'altra luce sperando che la telecamera riesca a riprendere in modo decente per farvi vedere il risultato che possiamo ottenere per esempio al buio. E guardate qua che qualità veramente altissima. Andiamo ad accedere per esempio a Netflix che è sicuramente una delle piattaforme più interessanti da utilizzare su un device come questo. E guardate quanto nonostante si vedano effettivamente un po' di pieghe perché vedete che in questa zona non è perfettamente stirato ma la qualità è perfettamente godibile. Tra l'altro vi ricordo ancora una volta che la risoluzione nativa è full hd quindi sono contenuti full hd proiezione pixel a pixel. E anche il downscaling è fatto piuttosto bene nel caso in cui si vogliano utilizzare contenuti che magari siano 4k. Assolutamente supportati anche questi. Wambo T2 Max. Direi che a questo punto possiamo trarre le nostre conclusioni. Un prodotto veramente molto versatile e molto ben costruito e con delle caratteristiche veramente interessanti. Risoluzione full hd, audio veramente ottimo per quanto provenga da dietro la proiezione non da dietro lo schermo e ci dia comunque una spazialità inferiore. Però audio assolutamente godibile. Buonissima la luminosità di 450 candele a metro quadro. Ci sono sicuramente proiettori più prestanti ma dobbiamo tener conto anche del prezzo perché con queste caratteristiche con tutto quello che vi ho fatto vedere proiettore smart che ci portiamo a casa all'incirca con 150 euro. Nel caso il vostro budget sia un pochettino più alto vi consiglio il suo fratellino maggiore il Wambo TT che ha caratteristiche molto simili. Il sistema operativo credo sia praticamente identico ma che si porta dietro una luminosità di ben 650 candele al metro quadro. Quindi possibilità di proiettare nelle stesse condizioni con una resa decisamente maggiore. Per quanto riguarda il telo di proiezione che vi ho fatto vedere lo consiglio se proprio avete budget limitatissimo perché costa 25 euro ed effettivamente con un po' di sbattimento si riesce ad ottenere un risultato già assolutamente godibile sicuramente spendendo qualcosa di più si riescono a prendere teli che magari sono un po' meno da maker diciamo teli che non richiedano del fai da te per essere messi in funzione. Però da quando proiettavo sul pannello di mdf a quando ho installato il telo effettivamente il miglioramento si è visto. Ultima nota che vado a fare la ventola che ogni tanto diventa un pelino rumorosa ma che se state guardando un film viene assolutamente coperta dall'audio del film stesso per cui non disturba così tanto. Ottima soluzione e soluzione soprattutto economica se abbiamo per esempio da proiettare dei contenuti in una piccola sala riunioni o in una piccola aula perché il risultato è comunque molto gradevole e anche con un computer attaccato riusciamo a ottenere una buonissima qualità dell'immagine. Se lo volete provare tutti i link ed eventuali codici sconto qua sotto in descrizione. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate del Wambo T2 Max e se avete bisogno di informazioni aggiuntive non esitate a chiedermelo nei commenti. Cerco di rispondere sempre a tutti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video e neanche un episodio. Anche per oggi da Andrea e da SixtySeven Lab è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Grazie!